Qual è dunque il principale e più grave limite del modo in cui viene impostata la domanda sulla validità delle pretese di giustizia da parte di Pascal? Beh, ecco, secondo me sta nella tesi per cui la ragione può e deve mettersi a distanza, per operare questo esame razionale, dall'intero complesso dei costumi, dall'intero complesso tradizionale. Per poter operare la sua valutazione deve realizzare quella che Pocco, nel video precedente, chiamavo la tabula rasa. Lo abbiamo visto sia nel quel momento del pensiero 294 quando evoca ad esempio gli stoici che vanno a cercare la giustizia non guardando ai costumi ma pretendendo di rivolgersi all'ordine della natura. Ora, tutto il gioco non sta nell'idea di dire che forse alcune delle norme tramandate hanno un fondamento più profondo. No, il punto è che si tratta di andare a cercare direttamente questo ordine più profondo lasciando da parte i costumi. Ecco, l'idea di poterlo fare, questa è la cosa che dobbiamo fare attenzione. Quindi, qualcosa di simile alla sospensione operata da Cartesio con il dubbio iperbolico, no? Ecco, mettiamo da parte, visto che i sensi ci possono ingannare, questo ci può ingannare, mettiamo da parte tutto e cerchiamo in una situazione svuotata di vedere se c'è qualcosa che vale. Ecco, questo tipo di dinamica che si vuole assicurare, no? Appunto è questo, assicurare, liberandosi di tutto lo spazio dove ci sono elementi di incertezza, questa è la cosa a cui dobbiamo fare attenzione. E che vale non soltanto, appunto, quando si diceva bene, ricominciamo da zero, no? Ecco, alla Cartesio appunto, quindi lasciamo perdere ogni tradizione morale, ogni costume, ogni usanza, ogni formazione e ricominciamo. Ricominciamo, ma anche nel caso in cui si prenda una certa tradizione e si pretenda di valutarla riportandola al fondamento, quindi estrapolando da questa stessa tradizione il nucleo. Una norma che viene, che ci orienta in quanto fa parte di una pratica a cui siamo stati addestrati, a cui siamo stati familiarizzati, viene individuata nella sua, nella proposizione che è la formula e questa proposizione viene messa in rapporto al fondamento per vedere se vi si fonda o meno. Quindi la possibilità di individuare il significato, il contenuto della norma, sganciandola da tutte quelle dimensioni pratiche, ma anche simboliche, immaginarie, eccetera, in cui di fatto noi la incontriamo. Questo è il punto. Allora, lo possiamo tradurre così. È l'idea che la ragione non dipenda, sia indipendente dalla dimensione dei costumi, delle tradizioni, dell'eticità, quello che Hegel chiamerà lo spirito oggettivo. È una ragione che è indipendente, non ne dipende e quindi può mettersi a distanza da tutto questo mondo, da tutta questa dimensione. Che include anche il linguaggio, no? Perché i valori, le idee sono depositati nel linguaggio, il linguaggio non sono strumenti neutri, è caricato di queste prospettive normative, valoriali, eccetera. Quindi mettersi a distanza lo deve anche mettersi a distanza dal linguaggio nella misura in cui è surdeterminato tutto questo, dagli endox, dalle opinioni autorevoli a cui Aristotele dà tanto peso. Ora è chiaro che una ragione che è così indipendente da tutto e che quindi deve tutto mettere a distanza, tutto tra parentesi, per poter procedere puramente, per poter procedere in maniera autenticamente razionale, quando procederà non avrà più risorse per fare nulla e quindi sarà inevitabilmente votata lo scacco. Salvo che appunto lo scacco è suo, non è lo scacco delle pretese che non passano il suo esame. Lo scacco è suo perché non ha portato a fondo l'opera critico-riflessiva arrivando a mettere in questione questa idea, questa idea per cui sarebbe indipendente. La mossa, l'approfondimento filosofico-speculativo a questo punto consiste appunto nel far compiere fino in fondo il giro e quindi radicare la ragione nel suo elemento. Il che non significa renderla serva dei costumi o delle tradizioni, renderla una specie di stanza ratificatrice del dato. No, questo si basa sul falso assunto per cui dire che non è indipendente dai costumi significa dire che i costumi sono indipendenti e quindi guidano il gioco e la ragione appunto ha semplicemente una funzione ancillare di ratificazione. Invece no, la cosa, c'è una terza possibilità che tra l'altro è quella che ci insegna la filosofia pratica di Aristotele, cioè quella di una dipendenza reciproca tra la ragione e le tradizioni all'interno di cui si forma. Questo significa che la ragione, pur non potendo fare una tavola rasa dell'intera dimensione appunto all'interno di cui si forma, ha una funzione dinamizzante in questa dinamica, quindi porta quel movimento critico per cui con una bella immagine di un filosofo del Novecento che non sta parlando della ragione pratica ma la possiamo riprendere, rende possibile l'aggiustamento della nave senza pretendere di poterla portare in porta e tirarla fuori dal mare. Ecco, quindi c'è un movimento critico riflessivo ma dall'interno di questo elemento, nella metafora del mare, che è la tradizione, il linguaggio, quindi si può mettere in questione un certo concetto, un certo endoxa, un gruppo di endoxa, ma senza pretendere di poterli portare tutti fuori in uno spazio vuoto, vuoto di ogni tipo di presupposto in cui evidentemente poi il discorso finisce per girare su se stesso. Insomma, quando Pascal critica l'arte di sovvertire gli stati, l'arte di fare la fronda eccetera, che in cui si sembra quasi adombrarsi antelittera a una critica delle pretese illuministiche, confonde, come peraltro farà gran parte dell'illuminismo, due cose, l'attitudine critica e la pretesa che l'attitudine critica, laddove voglia diventare determinazione positiva delle norme, debba partire da zero, debba cominciare con una tabola rasa e da lì riprendere dall'inizio. Questo è l'assunto che va criticato. L'attitudine critica non ha assolutamente da essere, non è necessariamente da sviluppare in quel modo. D'altro canto, Pascal ha ragione a dire che una ragione, che messi a distanza le tradizioni, l'eticità, quello che Hegel chiama lo spirito oggettivo eccetera, che dopo aver fatto tutto questo si rivolga alla natura, cioè che cerchi di dar parola all'ordine del giusto senza avere più parole da dare, senza avere più un linguaggio con cui afferrare tutto questo, è ovvio che si troverà di fronte una natura muta, cioè si troverà incapace di stabilire, di fondare qualunque tipo di pretesa di validità o al massimo potrà solo fondare determinazioni genericissime che significano quasi niente come è bene salvare la vita, è importante salvare la vita che di per sé è un'indicazione talmente astratta che di chi, quando, come, eccetera. Tutto questo richiede di far leva sulla tradizione anche per poterla criticare localmente, senza però uscire fuori dallo sfondo che rende intellegibili i fenomeni morali. Senza mettere in questione la possibilità di fare questa messa a distanza, e lo scacco diventa davvero inevitabile. Ho detto dunque che la ragione che pretende di potersi mettere a distanza dalla tradizione, dal linguaggio, dall'eticità, eccetera, è una ragione che si concepisce come originariamente indipendente da tutto questo. Posso mettermi a distanza perché originariamente non ne dipendo. E ho aggiunto che una ragione così concepita effettivamente non riesce poi a svolgere un lavoro positivo come ragion pratica, ecco, non riesce ad argomentare, a difendere un endox, a un esempio morale, una norma, eccetera, perché è priva dello sfondo a cui appoggiarsi. Ho cercato di suggerire che, prendendo l'esempio di Aristotele, che non è, che è possibile, che è quantomeno possibile andare nella direzione per cui negando l'indipendenza dei costumi non si è obbligati a sostenere l'indipendenza dei costumi e quindi la totale dipendenza della ragione che diventa una ragione ratificante i costumi. È possibile pensare una dipendenza reciproca e quindi intendere la ragione senza dimezzarne la forza, la ragione che pone la sua interrogazione radicale, che apre la domanda sulla validità nella maniera più forte, fa questo a partire da una posizione, quindi mette in questione i presupposti che nel confronto vengono sottolineati, ma non può assicurarsi preliminarmente di essersi liberati di tutti i presupposti, in qual caso appunto dovrebbe anche privarsi del linguaggio, visto che il linguaggio è caricato di significati che la ragione non padroneggia, li usiamo, ma non è che possiamo individuarli e farcene padroni, ecco siamo sempre anche, una cosa che ho accennato in uno dei video precedenti, negli altri post, c'è sempre anche una posizione di dipendenza appunto dai campi semantici, un'indisponibilità per cui li usiamo, li giochiamo, ma sempre assumendoci la responsabilità, ecco dunque senza potercene chiamare fuori. Grazie.